Nel fine settimana il tempo sulla regione sarà ancora condizionato dalla vasta depressione che da una settimana interessa l'Europa centrale e il nord Italia. Avremo quindi nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili in genere nel pomeriggio, su pianura e zone prealpine, ma possibili anche temporaneamente sulle zone di costa, dove comunque nel contesto delle giornate dovrebbero prevalere le schiarite. Temperature massime intorno ai 22 gradi sulla costa, 23 o 24 in pianura, minime 17-18 gradi sulla costa, 14 o 15 gradi in pianura. Lo zero termico sarà intorno ai 3200 metri. Anche all'inizio della prossima settimana il tempo sarà perturbato nella giornata di lunedì, con rovesci sparsi e qualche temporale a metà giornata, poi da martedì maggiore stabilità su pianura e costa con temperature in aumento e potrebbero arrivare intorno ai 27 gradi, ancora instabile in montagna. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.